Arambea Africa International Arambea Africa International Arambea Africa International e aiutare gli amici europei a dedicarsi agli altri. Per me Arambe è un buon modo di capire un po' meglio il mondo in cui viviamo. Ponerse in le zapate dei africani e partecipare di questi desafiei è il gran mito di arena che possiamo apportare per risolvere problemi vitali del siglo XXI. Arambe fa sentire parte di una comunità di persone molto diverse, di diverse fronte, e insieme credo che stiamo creando in un futuro migliore per gli altri. Io amo l'Africa, e voglio la farla connecola come l'ora è. Molto di poverza, ovviamente, ma delle persone formidabili, gioiei, generosi e optimisti. Credo in un avanti migliore. L'Africa è un diamante in brutto, e per me è un privilegio, attraverso il mio lavoro di Arambe, di poter aiutare a tagliare questo diamante e aiutare a brillare in tutto il suo esplendor. Arambe ha supportato molti progetti in Africa e ha raggiunto concrete risultati da questa fondazione. La grande contribuzione è aiutare l'Africa, e questo è quello che hanno bisogno. Ne hanno bisogno di sentire supporti, ne hanno bisogno di sentire, non hanno bisogno di sentire, e non hanno bisogno. Ne hanno bisogno di potere, e la voglia, che hanno bisogno di potere le risultate necessarie per le problemi che ci sono in loro, ma non hanno bisogno, ma non hanno bisogno di sentire il nostro supporto, e che hanno bisogno di sentire e che hanno bisogno di sentire e questo è uno dei grandi aspetti che abbiamo per Africa. Io credo che dopo molti anni di lavorare in Arambe focusing sull'educazione è la right choice. Strengthening teachers means better educated new generations. Focusing on children means that their ability to dream big is improved and involving families means a better society and indeed the whole world. make a come a 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.